Questo modulo didattico è dedicato alla logica modale e alle sue applicazioni dell'intelligenza artificiale, in particolare nella rappresentazione degli stati mentali degli agenti intelligenti. È diviso in tre unità didattiche. In questa prima unità didattica cercheremo di introdurre l'argomento e di introdurre le problematiche legate alla logica del primo ordine, i limiti della logica del primo ordine, nel rappresentare quelle che vengono chiamate mental attitudes, attitudini mentali, che nel linguaggio sono rappresentate dai verbi modali, nel linguaggio naturale. Nella seconda unità didattica cercheremo di introdurre la sintassi della logica modale e vedremo i dodici assomi più importanti, nonché le due regole di inferenza che vengono utilizzate nella logica modale. Nella terza ed ultima unità didattica invece parleremo della semantica, che in tempi moderni è stata data alla logica modale, che ne è rimasta priva per secoli, di una semantica computazionalmente valida, quindi una semantica computazionale, la cosiddetta semantica dei mondi possibili, che poi ha consentito effettivamente l'impiego in ambito informatico, tecnologico, della logica modale nell'intelligenza artificiale, sia nelle rappresentazioni degli stati mentali, come vedremo, che in altri contesti. Bene, partiamo quindi in questa unità a cercare di introdurre l'argomento e direi, vorrei farlo con un esempio, un esercizio che ho dato a lezione, anzi ho dato all'esame, che credo che possa essere utile per introdurre il problema da cui nasce la necessità di utilizzare la logica modale. Ora, se torniamo all'inizio di questo corso, torniamo indietro ai primi passi, noi ricordiamo quando abbiamo introdotto la logica del primo ordine per rappresentare la conoscenza di senso comune, abbiamo fatto esercizi di questo tipo, abbiamo ricordato che i predicati prendono questo nome dal fatto che spesso rappresentano delle azioni, quindi i predicati, e per esempio, quindi abbiamo svolto esercizi di questo tipo, gli studenti sono iscritti ad una scuola o ad un'università, se è in grado di trasformare in una forma del primo ordine questa frase del linguaggio naturale. Allora, quasi tutti hanno imparato correttamente a scrivere formule di questo tipo, che credo che sia una rappresentazione del primo ordine corretta. Qualunque sia x dove x spazia nel dominio del discorso, se x è uno studente, allora esisterà un y, tale per cui questo y è o una scuola oppure una università, e x, questo soggetto, risulta effettivamente iscritto a questa università. Credo che questa appunto sia una buona rappresentazione in primo ordine, oggi è il primo ordine di quella frase, dove c'è, come vedete, un verbo, un verbo riflessivo messo al participio, iscriversi. Ma, va bene, e poi invece ci sono altri due predicati, scuola e università, che stanno a rappresentare delle proprietà di cui godono gli oggetti, perché sono predicati che hanno un solo argomento e quindi rappresentano delle proprietà. Invece, se ha due argomenti, molto probabilmente il predicato rappresenta una relazione, alcune di queste relazioni stanno lì a rappresentare delle azioni, di cui un argomento è il soggetto e l'altro argomento è il complemento oggetto. Ora, vediamone un'altra, che è quella appunto che ho dato come esercizio d'esame. Davo due frasi, una delle quali era questa qui. Gli studenti qualche volta sbagliano, i professori no. E di nuovo chiedevo di rappresentare in logica del primo ordine. E devo dire, quasi tutti, gli studenti davano una rappresentazione corretta di quel qualche volta. E qualche volta era reso con il quantificatore esistenziale. E credo anche qui che questa possa essere una formula, una rappresentazione corretta in logica del primo ordine di quella frase. Gli studenti qualche volta sbagliano, i professori no. Vediamo un po'. Qualunque sia x, che spazia nel dominio, se x è uno studente, allora esisterà un y, tale per cui questo y è un esercizio, e x sbaglia y. Questo è il predicato. x, lo studente, sbaglia y. Inoltre, i professori no. I professori non sbagliano. Non è vero che qualche volta sbagliano. Se x è un professore, sempre sotto il quantificatore universale, allora non esisterà un z, tale per cui questo z è un esercizio, e x lo sbaglia, il professore lo sbaglia. Direi che anche questa sia una rappresentazione corretta. Ma nello stesso esercizio chiedevo, proponevo un'altra frase, gli studenti possono sbagliare, i professori no. Chiedevo innanzitutto se questa seconda frase fosse logicamente equivalente alla prima. Gli studenti qualche volta sbagliano, i professori no. E devo dire che purtroppo, quasi invariabilmente, gli studenti davano la stessa risposta, cioè le due frasi hanno esattamente lo stesso significato. Allora, quando andavo a chiedere poi di rappresentare quindi in logica del primo ordine, la rappresentazione era la medesima. Però, nello scrivere la forma del primo ordine, qualche studente ha cominciato a avere effettivamente delle perplessità, per cui poi si dimostrava non proprio sicuro di quello che stava scrivendo o dicendo. Perché? Perché l'uso del quantificatore esistenziale per rappresentare quel verbo modale possono sbagliare, poter sbagliare, effettivamente non è accettabile, in quanto che il quantificatore esistenziale qui dice che esisterà effettivamente un esercizio che lo studente sbaglia. Questo concetto rappresenta bene l'espressione che qualche volta gli studenti sbagliano, ma l'eventualità che lo studente possa sbagliare non è colta dal quantificatore esistenziale, il quale afferma che effettivamente questo esercizio che lo studente sbaglia effettivamente esiste. Quindi, qui stiamo dicendo che non possono esserci degli studenti che prendono 30 e lode, perché almeno un esercizio in serie d'esame dovrà essere sbagliato. E quindi c'è indubbiamente qualche cosa che non va. Allora qualche studente cercava di recuperare in qualche maniera la cosa dicendo che esisterà un esercizio, esisterà un y che è un esercizio, e or x sbaglia y, or not sbaglia xy. Quindi dicendo che esiste un esercizio tale per cui lo studente o lo sbaglia o non lo sbaglia. Per poi rendersi conto che anche questa in realtà è una soluzione del nostro problema, in quanto che dire che esiste un esercizio che lo studente o lo sbaglia oppure non lo sbaglia in pratica significa affermare un'altra autologia e quindi significa dire nulla. di tutti gli esercizi che lo studente svolge in esame si può predicare che può essere sbagliato, svolto bene o svolto male l'esercizio e quindi di per sé la cosa non ha alcun significato e come non aver detto nulla di fatto. Dunque c'è qualche problema serio, c'è qualche problema profondo, c'è qualche problema che attiene all'ontologia proprio di questa espressione in questo verbo potere, che è un verbo modale, viene detto, nella grammatica, nell'analisi logica, che la logica del primo ordine non è in grado di cogliere. Ricordiamo quando abbiamo parlato della rappresentazione della conoscenza che la logica del primo ordine ha effettivamente dei problemi due problemi grossi erano legati all'assenza dei numeri, cioè non è in grado di per sé, to cure, la logica del primo ordine di rappresentare l'incertezza e quindi le probabilità non ci sono dentro la logica del primo ordine come non è neanche in grado di rappresentare la vaghezza dei significati attribuibili ai predicati. La semantica tarskiana associa ai predicati dei significati non ambigui e mentre noi sappiamo bene, ne abbiamo discusso, abbiamo accennato alla fuzzy logic in cui il significato di un predicato, l'appartenenza a una categoria di persone che godono una certa proprietà può non essere crisp, crisp come dicono gli inglesi, ma può essere sfumata, ci può essere un grado di membership che va da 0 a 1 e questo da vita a tutta una logica che non è una logica a due valori, vero o falso, ma una logica più sfumata, appunto, è la fuzzy logic. Questi erano due problemi legati della logica del primo ordine legati al fatto che non è possibile in una logica del primo ordine trattare i numeri. ma qui stiamo toccando un altro limite, l'altro limite è qui, è questo, che sembrerebbe, e quindi anticipo qui un concetto che vedremo poi addirittura nella terza unità didattica, lo approfondiremo, sembrerebbe già che possiamo toccare con mano che la semantica dei verbi normali sembra riferirsi ad un universo, quindi un universo del discorso, il dominio del discorso, invece la semantica dei verbi modali sembra riferirsi a un multiverso, cioè sembrerebbe quasi che ci sono mondi, occasioni, in cui lo studente sbaglia, ma ci possono essere eventualmente dei mondi, delle occasioni, in cui lo studente non sbaglia. Ed è un problema che inerentemente la logica del primo ordine non è in grado di fare, perché la semantica della logica del primo ordine, così come l'abbiamo vista, la semantica di Tarsky, all'inizio di questo corso, non gli consente di rappresentare. Sarebbero un po' più chiari nella terza unità didattica in particolare. Ma in realtà, quali sono questi verbi modali? I verbi modali sono potere, dovere, potere, dovere, credere, desiderare, questi sono verbi, alcuni sono detti proprio modali, altri sono simili, modali, ma insomma, sono i verbi che accompagnano altri verbi, dove il verbo accompagnato rappresenta effettivamente un'azione. vediamo qui la prima formula, qui, Lois, che è la fidanzata di Clark Kent, sa che Superman può volare. Allora, il fatto che Superman può volare è una proprietà di Superman che l'abbiamo resa con Can Fly, però, essendo una proprietà, essendo una proprietà, l'abbiamo rappresentata con un predicato a Can Fly. Adesso, se vogliamo usare un predicato per rappresentare l'azione di conoscere, come l'azione di desiderare, come l'azione di poter fare qualche cosa, che non è un'azione, appunto, ma è una modalità in cui si può eventualmente compiere l'azione, anche desiderare, anche credere, appunto, sono delle modalità. Se noi rappresentiamo queste modalità come dei predicati, il primo problema, il secondo problema che tocchiamo con mano dopo quello che abbiamo introdotto poco fa, è che incappiamo in un informe del secondo ordine. Questo di per sé non sarebbe un problema ontologico, sarebbe semplicemente un problema pragmatico perché, come sappiamo, la logica del secondo ordine non ci consentirebbe di poter provare in maniera certa che una formula è un torema. Quindi, dal punto di vista della capacità di fare dei ragionamenti in maniera automatica con questa logica, avremo poi dei problemi. Non siamo molto contenti. Un modo per uscire fuori dal problema di rappresentare le modalità con formula del secondo ordine potrebbe essere quello di reificare l'azione. Per esempio, noi potremmo pensare qui can fly che è una proprietà, non è un'azione ma anche se fosse un'azione il discorso sarebbe lo stesso di poterla reificare e cioè farla diventare un oggetto come se fosse una stringa di simboli can fly superman invece che una formula composta di predicato e argomento del predicato in questo caso soggetto. ma se così facissimo o facciamo sì, ritorniamo nel primordio perché a questo punto non sarebbe un normale predicato con due argomenti un argomento Lois è un altro argomento che è un altro oggetto che mappa su un dominio di espressioni sintattiche e non le azioni però ci perderemo la possibilità di poter ragionare sull'argomento interno quindi non potremmo rappresentare le formule della serie Lois Snow can fly X cioè qualcuno che può volare non lo potremmo rappresentare perché can fly superman sarebbe un oggetto atomico non una né una formula né un termine e quindi non lo potremmo rappresentare dunque un altro un altro problema simile ce l'avremo anche qui ci ritorneremo se noi ci accorgiamo che in realtà le modalità possono anche essere innestate posso pensare di voler rappresentare in logica del primo ordine se fosse possibile in qualche maniera risolvere questo problema in logica del primo la prima formula della serie Lois la fidanzata di Clark Kent vuole che Clark Kent sposi Lois quindi Lois questa sarebbe la formula che rappresenta l'azione anche qui messa al participio ma insomma una relazione che lega Clark Kent a Lois che siano sposati qui abbiamo la modalità volere Clark Kent vuole questa cosa e tutto questo oggetto argomento di una modalità ancora più esterna ovviamente qui andiamo addirittura logiche del non del secondo ma del terzo ordine e così via andremo a finire chissà dove un altro problema della logica del primo ordine è legato al simbolo dell'uguaglianza qui lo vediamo relazionato col simbolo di uguaglianza ma è un problema più concettuale più ontologico e cioè che se abbiamo che due termini si riferiscono allo stesso oggetto del dominio nella logica del primo ordine senza altro questi due termini devono avere le stesse proprietà per cui se Superman e Clark Kent sono due costanti delle logiche del primo ordine che sono riferite allo stesso oggetto del dominio allo stesso uomo e questo qui per esempio in questa formula ha espresso questo concetto mediante il predicato uguale che appunto associa a due termini in questo caso due costanti lo stesso oggetto del dominio allora dal fatto che Clark Kent può volare segue che anche Superman dal fatto che Superman può volare segue che Clark Kent può volare e questo non c'è umbra di dubbio ci sta bene in logica del primo ordine ma se introduciamo la modalità le cose non ci stanno più bene perché se noi diciamo che Lois sa che Superman può volare a questo punto ne dovrebbe seguire che Lois sa che Clark Kent può volare ma come sappiamo quelli che hanno la mia età sanno dai fumetti di 50 anni fa Lois non sapeva che il proprio fidanzato poteva volare e quindi la logica del primo ordine ci farebbe fare un'inferenza che sarebbe nel mondo che il formalismo logico vuole rappresentare inaccettabile questo si dice questo problema che la la logica del primo ordine ha la trasparenza referenziale e quindi non ci consente di distinguere la formula Nois Lois Can Fly Superman dalla formula Nois Lois Can Fly Clark Kent per la logica del primo ordine sono entrambe hanno lo stesso significato nella modalità nel linguaggio comune quando quello che noi usiamo per esprimerci o anche per pensare quindi per esprimerci con noi stessi le due formule Nois Lois Can Fly Superman e Nois Lois Can Fly Clark Kent sono indubbiamente due formule diverse che hanno un significato diverso la logica del primo ordine invece assegna a entrambe lo stesso significato altri problemi che ci portano dritti e dritti alla logica del primo ordine sono per esempio riferite solo alla modalità diciamo così epistemico-cognitiva cioè la modalità del sapere sono dubbi veramente molto importanti e cioè noi esseri umani sappiamo quello che sappiamo o perlomeno insomma non sempre ma insomma abbiamo una sensazione di sapere quello che sappiamo come anche di sapere quello che non sappiamo se chiediamo qualche cosa a qualcuno è perché sappiamo di non sapere quella cosa inoltre sappiamo che qualcuno o crediamo che qualcuno a cui chiediamo quella cosa lui la sappia perché altrimenti non sprecheremmo il fiato di chiederglielo o di fare una brutta figura primo ripeto siamo consapevoli del fatto che ci manca un pezzo di conoscenza di cui avremo bisogno inoltre sappiamo che l'altro potrebbe avere quel pezzo di conoscenza che ci serve ma se noi usiamo la logica del primo ordine non siamo in grado di rappresentare se noi utilizziamo la logica del primo ordine per rappresentare lo stato mentale della gente intelligente non siamo in grado di emulare di in qualche maniera catturare queste proprietà della conoscenza poi lo vedremo ci possono essere anche le modalità combinate so quel che voglio so quello che sanno gli altri quello che ho accennato prima so quello che vogliono gli altri la logica del primo ordine se la vogliamo utilizzare per rappresentare lo stato mentale della gente intelligente non è in grado di rappresentare questi questi concetti se fossimo in grado di rappresentare questi concetti potremmo fare delle cognitive davvero evolute e quindi potremmo rappresentare delle mental attitudes molto complesse cioè relativamente complesse in questo caso molto semplici in realtà di questo tipo per esempio Lois sa che o Clark Kent sa se lui è superman oppure Clark Kent sa che lui non è superman cioè questa formula rappresenta una convinzione di Lois Lois non sa lei se Clark Kent il suo fidanzato è superman però Lois sa che Clark Kent il suo fidanzato lo sa se lui è o no superman e sapendo che lui lo sa farà delle azioni legate a questa conoscenza che lei ha quindi è importante poter consentire ai nostri agenti intelligenti di poter rappresentare di poter avere delle rappresentazioni averli Lois degli stati mentali poter rappresentare stati mentali di altri con formule di questo tipo oppure Clark Kent sa che se Lois sa che lui è superman allora Lois la sua fidanzata non vorrà sposarlo vedete qui c'è una formula con una modalità knows esterna dentro due modalità una una formula con due modalità knows and wants io penso che sia intuibile l'importanza di trovare dei formalismi logici che ci consentono di poter rappresentare formule di questo tipo perché solo se riusciamo a rappresentare formule di questo tipo possiamo veramente costruire delle macchine che possano rapportarsi con noi o con altre macchine facendo delle inferenze mentali come quelle che facciamo noi quindi possiamo avviarci verso la concorrenza cercando un po' di riassumere quelli che sono i bisogni che adesso cercheremo di rappresentare e cercheremo anche di usare come introduzione per la logica modale i bisogni che chiediamo alla logica modale di assolvere e cioè vogliamo soprattutto rappresentare tre tipi di modalità le modalità cosiddette cognitive legate al credere e al sapere modalità che negli esseri umani emergono dalla propria capacità di percepire ma anche dalla propria capacità di scambiare informazioni con altri e quindi dobbiamo distinguere il sapere dal credere cioè la gente deve rendersi conto di avere consapevolezza di ciò che sa o di ciò che crede e deve saper distinguere fra queste due modalità un conto è sapere una cosa un conto è credere credere che qualcosa sia vero sapere qualcosa è diverso ma poi dovrà essere in grado di capire cosa lui sa e cosa non sa quindi avere la consapevolezza una specie di non voglio chiamare autocoscienza perché poi la coscienza fa riferimento a qualche cosa di poco afferrabile e probabilmente non trasferibile su una macchina questo non lo so usciamo un pochino fuori da quello che è il seminato di un corso di intelligenza artificiale ma sicuramente avere una consapevolezza di ciò che si sa e di ciò che si crede come anche scendiamo sotto deve avere la possibilità di poter distinguere la modalità del volere anche volere è un verbo modale emerge questo la volontà o da un desiderio che a sua volta è legato a qualche cosa che negli esseri umani come negli animali è legato al piacere oppure un piacere un po' più diciamo più profondo più ampio più se volete più meno legato agli aspetti insomma del desiderio che potrebbe essere un piacere legato all'essere in pace adesso veramente stiamo un pochino allontanandoci dalla macchina però bisogna rappresentare il desiderio e la volontà e anche distinguere fra queste due cose un conto è il desiderio e un conto è la volontà e anche queste possono essere modalità che si possono innestare perché si può desiderare di volere si può voler desiderare si può voler volere cose di questo genere anche se sono pochi interessanti probabilmente per gli esseri umani le modalità innestate sulla volontà ma c'è anche un'altra modalità importante che dobbiamo rappresentare quelle legate ai doveri che derivano come sappiamo per esempio ci sono le leggi della robotica che un grande scrittore e pensatore come Isaac Asimov pensò e beh le leggi le famose tre leggi sulla robotica se non avessimo una logica modale non le potremmo rappresentare e non le potremmo anche introdurre dentro lo stato mentale di un agente qualunque cosa sia uno stato mentale che un stato mentale possa essere rappresentato un insieme di formule e possa essere costituito un insieme di formule questa è una questione filosofica interessante noi diamo per supposto che la risposta è sì cioè noi consideriamo un insieme di formule messa dentro una RAM del con un opportuno linguaggio che appunto dobbiamo andare a vedere inserita dentro la RAM di un agente artificiale come costituenti il suo stato mentale questi insiemi di formule e fra questi insiemi di formule ci dovranno essere anche formule che derivino dagli obblighi e dalle concessioni che servono per rappresentare obblighi e concessioni quindi i concetti come è obbligatorio che tu faccia una cosa o ti è concesso fare una cosa o è obbligatorio che tu non la faccia quindi è un divieto oppure ti è concesso che tu non la faccia e questo bisogna pure rappresentarle e vedremo che la logica modale servirà anche per questo poi queste tre fondamentali cognitive volitive deontiche attitudini mentali modalità importantissime possono anche essere miscelate come credere di volere una cosa o si può voler credere qualche cosa e poi si possono essere anzi saranno come vediamo vedremo alla fine di questo modulo didattico che sono molto molto importanti per poter modellare le relazioni fra agenti diversi e quindi io devo poter rappresentare nello stato mentale formule della serie io agente intelligente credo che tu creda io credo che tu voglia io voglio che tu voglia io voglio che tu creda e poter così rappresentare anche storie e situazioni della serie Iago vuole che Otello creda che Desdemona non lo desideri ecco io voglio che un altro agente creda che un'altra gente abbia problemi cose di questo genere io devo poter rappresentare formule così complesse per fare questo utilizzeremo ma lo vediamo nella prossima unità didattica la logica modale grazie a tutti